Un uomo d'armia scolano, un alto ufficiale legato alla città delle cento torri, pluridecorato al valor militare e testimone di importanti eventi storici che hanno caratterizzato il ventesimo secolo, tra cui le vicende coloniali dell'Italia, la prima guerra mondiale, la sua prigionia in Germania, il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale. Il generale Nicolò Bertolotto è stato ricordato durante l'incontro promosso dall'Istituto del Nastro Azzurro che si è svolto nei giorni scorsi al Palazzo dei Capitani. Durante il secondo conflitto mondiale, come comandante del 225esimo reggimento di fanteria ad Ascoli e del distretto militare, Bertolotto visse il dramma dell'armistizio dell'8 settembre 1943 e la resistenza della città che le valse la medaglia d'oro al valor militare. A ricordarlo è il nipote Vincenzo. La vita di mio nonno è stata molto particolare e soprattutto è un esempio di una vita vissuta in pieno, vissuta attraverso le guerre, tutte le guerre, dalla prima Africa alla prima guerra mondiale proprio sul fronte diretto di Caporetto. La seconda Africa con Bengasi e portò il 225esimo reggimento fanteria di Ascoli a Bengasi a fare la campagna di Africa e poi ritornò ad Ascoli comandante il distretto. La conferenza si inserisce all'interno di un vero e proprio percorso intrapreso dall'Istituto del Nastro Azzurro di Ascoli. E questo è uno dei motivi ricorrenti del nostro istituto, l'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro che è un ente morale, tengo a dire apolitico e apartitico, il cui scopo fondamentale è proprio quello di ricordare sempre, di trasmettere la memoria di eventi storici importanti e di personaggi che hanno dato lustro alla nostra Italia. È un nostro dovere quello di conservare la memoria perché senza memoria non abbiamo futuro. Presenti anche i generali Ciro Cocozza e Massimo Coltrinari. Qualcuno ha detto che la storia dovrebbe essere studiata dalle nuove generazioni perché una generazione che non conosce la storia non ha né passato né futuro. In effetti noi tendiamo a dimenticare la nostra storia e diciamo che eventi come questo ci servono proprio a fare in modo che tutti e in particolare le nuove generazioni conoscano quello che è successo in passato. Io ho in carico da parte del Presidente Nazionale, il generale Carlo Maria Magnani, di consegnare al discendente del generale qui ricordato, Vertolotto, al nipote, il cosiddetto diploma raddico, istituito per legge nel 1927 per ricordare coloro che sui campi di battaglia e in nome della nostra nazione hanno fatto di più del loro valore. Gli viene conferito questo per ricordare i genitori, i nonni, coloro che ci hanno preceduto e soprattutto inviare un messaggio di indicazione, di speranza, di riferimento alle nuove generazioni.